Il Giapponese Ho provato a recuperare Ma Johnny troppo veloce oggi Quindi Se non hai ritirato Johnny Ma io non posso recuperare lui Anche Alla fine gara Parte Gomma dietro Un po' di shattering Quando entrava curva Quindi Abbiamo svariato setting della prima marcia Grazie Ecco Un'altra curiosità L'allenamento Per il tuo fisico Fai palestra Durante la settimana O comunque ti alleni qui nel tuo motorhome No Allenamento sono chiaro Ecco un'altra curiosità L'allenamento Per il tuo fisico Fai palestra Durante la settimana E' stato da vedere Insieme di modo di Quello stile fisico Non può accompagnare solo Arenamento Arenamento sono chiaro AR Ooh L'allenamento è chiaro Arenamento sono chiaro Arenamento è chiaro Arenamento è chiaro Età E' in E' un po' di nuovo. Io can, Io can, Io can, Io can, Io can, Io can, Io can. Io can, Io can, Io can. Eh... Eh, arenamento sorul manière. Si, in effetti, a chi capita di soffrire, a chi, scusate, sono molto emozionato, a chi capita una cosa di queste qui, è veramente la morte civile, questa è benzina, no, no, io vi do fuoco, se no, non legge questa cosa, la leggo, la leggo, la leggo, non voglio che fare quelle cose, la leggo, 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 Io, 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 Io No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.